una pausa di relax per il nostro reality vediamo già una parte delle nostre protagoniste buongiorno come andiamo benissimo piscine columbus si sta benissimo vero alice carla ha già fatto un bagnetto si qualcosa mi sto asciugando ma le altre dove sono vedo tutte le lettini allora andiamo a cercare tanto vediamo questa struttura di avano terme il columbus che ospita il momento di relax dei nostri protagonisti del reality ormai manca poco giovedì grande giorno e allora si preparano ecco le grazie buongiorno siete pronte dopo dopo chi manca ancora che deve arrivare l'abbiamo già salutate ma che fate dovete dovete allenarvi allora salutiamo elisa ciao desiree piera caciuscia angela e carla cario allora abbiamo l'alice che fa da quasi bagnino aiuto bagnino insomma vediamo se arrivano i nostri due amici e poi documenteremo anche questo momento di relax allora avevamo con l'aiuto coreografo è studiato facciamo vedere pronti sulla destra ciascuno chiami roberto che ci fa allora vedete guardate anche vorrei farvi notare le vitine di cera anche anche quelle di colori avete capito in orario di lavoro cosa facciamo bene allora tanto grazie al columbus thermal pool grazie columbus ormai sono quasi le otto di sera dobbiamo andare anche a fare bagno turbo bagno turbo fatta la ripresa subacqua abbiamo svelato tutti i segreti bene allora va bene allora fra un po dobbiamo preparare questa ultima uscita della cori per paolo il giovedì 27 è così che vi stas allenando lo sa luca luca l'avete avvisato luca mettiti gli occhiali salute ci sottava dai 1 2 3 dici qualcosa anche se riesce a parlare non abbiamo sentito cosa ha detto allora luca l'avete lasciato dove al forum probabilmente anche la ci saluta invece ci saluta perché lei è stata stata chiamata da briatore sapendo che hai fatto questo reality si è chiamato in sardegna briatore lasciamo parlare l'artista per motivi etici non potevamo portare luca direi per motivi etnici no perché mettermi in piazza quel bel ragazzo in costume non si poteva proprio era di chi stai parlando di luca ah luca ci avete dato l'allenatore più bello che si poteva fare per quello gli volete così bene questa è una dichiarazione va bene allora buon relax ciò che relax e comprende l'alice lei sta a fare la bagnina il servizio completo comprende ancora la sauna il bagno turco il gelato e la pizza che vediamo come è no no tu vuoi sempre farmi vedere io sono un incognito sto lavorando va bene ciao a dopo eccoci qua non potendo riprendere per contratto le donne in costume adesso marco ci farà dai ragazzi insieme tan 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 dai qua qua ci si sfoglia si tomo tira via che ha giacca con la mossa oh non sei proprio tanto sexy queste sono le scarpe consigliate da decathlon no queste sono le scarpe consigliate da marco da marco da marco tron no cosa ci fai con queste scarpe la martina si va a sparire martina devi fare quello che fa lui anche tu tan 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 10 Per contratto non posso prendervi in costume, se no non pagano il gelato, esatto, ehi là, piano, hop, ehi là, ole, fai vedere il bicipite, vedete che fa bene correre, vediamo, vediamo lei, dai, no vabbè, sei l'unica che riprendiamo in costume, le altre non le abbiamo riprende. Fai volare il calzino, Martina senti se è a posto il calzino, ti basta? Va bene ragazzi, allora adesso tutti in sauna, voi andate in vasca, bene, grazie, continua la nostra stilata, sauna è là sopra, al Columbus Thermal Pool. Eccoci al centro benessere, avete suonato? Sì, dentro, dentro, centro benessere, vediamo qua la foto dall'alto. Cos'è che hai trovato? No, siamo bevendo la tisana. Ma dove l'hai trovata almeno? No, le siamo provate. Nella Sameda qua. Ah, hai capito? Che tisana, anche il bacio di qui. Mangia che lusso. Aspetta che vediamo. Stiamo bevendo la tisana per l'alto. Basta, basta. Eccoci. Pia Veloce, davanti a tutti. E siamo in questo bellissimo centro. Com'è? È bello? È bello caldo. Allora, questa, qui c'è una sauna. Senti come è saldo? Mamma mia! Vediamo. È una sauna, bisogna tirare forte. Vai, chi è che va dentro? Io. Sauna, se già sei in, è secca. Ci baci. Vada, wow. Ma dobbiamo metterci tutto. Veloci dentro chi deve entrare. Perché sennò ancora tutto è già. E l'altro è un bagno turco. Facciamo intanto la sauna. Chiudersi. Oh, bene. Dovete togliervi il costume, lo sapete. E' un certo imbarazzo però con tutte queste donne. Chiudi, chiudi. Chiudi, chiudi. Chiudi. Chiudere, chiudere. Bene. Dario, tu rimani dentro. Io adesso vi saluto perché... Probabilmente Dario sarà in imbarazzo, ma non si coglie. Deve andare. Allora, addirittura, rendi mani in accattatoio. Esatto, però io sono un signore. Dovevamo portarti un'ostruzione per simulare il sudore. Come simulare il sudore? Ti voglio vedere fra un quarto d'ora. Adesso chiudiamo a chiave. Qua vi lasciamo qua. Bene. Buona sauna. Grazie, Dario. Grazie, Dario. Bene. Vi vedo belle, provate. Ragazze, non è... Carla, spieghiamo che non è modo migliore per approcciarsi in un ambiente così raffinato. E qua cosa serve? Allora, volete rilasciarvi? Non sa Nino cosa si sta perdendo in questo momento. Si trova costume anche per Angela, per Villa Simius. È riuscito a trovare che l'unico raggio di sole è rimasto bene. Guarda che bello. E grazie, guarda. Che bella attitudine. Adesso siamo buoni. Ma no, c'è questo è il bagno turco a vapore, con le lucette. Con la promoterapia. Con la promoterapia. Ah, però non si vede niente, quindi non riusciamo a fare le represe. Va bene, qui c'è, immaginatevi, un bagno turco. Con la promoterapia. Bene, eccoci tornati all'aperto. Va bene ragazzi, allora non posso che augurarvi una buona serata, continuazione di serata. Abbiamo fatto vedere... Adesso abbiamo anche il gelato. Adesso c'è tutta la preparazione anche zuccherologica. Voi chiamiamo così a prendere il gelato. Se volete venire, sarà contento il gelatiere. Bene, intanto vediamo ancora questo Columbus Thermal Pool di Avano Thermal, che ci ha ospitato. Grazie, a più tardi. Ah, un attimo, un attimo. Scopriamo la coppietta del secolo. Allora, com'è? Bella calda? Bella caldina, bella. Fai da trasportatore, da traghettatore. Da rimorcazione. Bene. Ciao a tutti. Abbiamo bevuto una tisana al centro estetico. Bella. Bene. Ciao ragazzi. Libera, viva qui canto. Bella vita, eh? Realiti, eh? Bella vita. Ben arrivata. Bravo. Un saluto su un barco. Debbiamo saltare anche noi due Si vabbiamo Ha già fatto che cosa? Ha già fatto contro dentro